Buon pomeriggio, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. La donna morta nell'incendio della sua casa ha arrestato il fidanzato accusato di omicidio. La vittima sarebbe stata prima picchiata dall'uomo in un possibile litigio tra i due, poi, una volta accortosi di averla uccisa, l'assassino avrebbe appiccato le fiamme nell'appartamento per simulare un incendio accidentale. Solo per un caso fortuito, quel pomeriggio, grazie alla prontezza di spirito di una vicina di casa, durante l'incendio si sarebbe salvata la figlia della vittima di 5 anni. Stando alle testimonianze raccolte dagli inquirenti in questi giorni, la donna aveva accennato all'idea di lasciare il suo uomo, definendolo un violento. I militari dell'arma sono riusciti a individuare il movente già poche ore dopo la scoperta dell'incendio e i soccorsi, e le ipotesi dei rilievi sul posto hanno dato poi vita all'arresto, che è avvenuto anche perché l'uomo era in procinto di lasciare Napoli. Se non fosse scoppiata la guerra, molto probabilmente avrebbe preso il primo autobus destinazione Kiev. Siamo in collegamento con Giuseppina Tommasielli, medico di base e componente dell'unità di crisi per l'emergenza coronavirus in Campania. Salve dottoressa, grazie per essere nuovamente collegata con noi. Ben trovata. Grazie, grazie a voi, grazie a te e a voi sempre per il vito. Allora, qual è la situazione epidemiologica per quanto riguarda il coronavirus? Al momento cominciano a circolare voci di un rialzo dei contagi. Lei ce lo può confermare? Sì, io dal mio osservatorio territoriale comincio di nuovo a vedere molti positivi. Si tratta di persone relativamente giovani perché comunque in fasce di età comprese tra 30, 50, 60 anni massimo e vaccinati e quando sono vaccinati non abbiamo sintomatologie molto eclatanti. Sono positive, rimangono a casa, sotto controllo e a volte basta poco per rimetterli poi in pista. Quindi questo è quello che noi stiamo vedendo come osservatorio territoriale. Quindi ancora non vediamo situazioni difficili e complicate. Abbiamo un'arma in più adesso, lo ricordo a me stessa, lo ricordo ai pazienti e ai colleghi. Oggi abbiamo un'arma in più che sono gli antivirali che dobbiamo assolutamente utilizzare quando è possibile e quindi proprio per evitare poi le corse in ospedale. Dottoressa, per quanto riguarda la campagna vaccinale, prosegue ancora presso i medici di base, presso i distretti e in che percentuale vengono ancora vaccinati? Siete riusciti a convincere un po' quello che era lo zoccolo duro di Novac? Sì, pochi però, dobbiamo dire pochi. Veramente c'è un lavoro ancora costante e sfibrande da parte nostra, però siamo veramente allo zoccolo duro, nel senso che chi non si è convinto fino adesso è difficilissimo di convincere. Ovviamente poi in questo momento c'è il problema, è diventata notizia che il Green Pass non occorrerà più da qui a qualche mese e quindi c'è ancora maggiore resistenza. Diciamo che la copertura delle terze dosi è stata abbastanza ampia e quindi non stiamo vaccinando molto, esattamente come sta accadendo negli hub, tutto sommato. Stiamo, per qualcuno, i nostri anziani però, più di uno mi ha chiesto la quarta dose, che ovviamente noi in questo momento, se non sono super fragili, non facciamo, non possiamo fare perché non c'è l'indicazione ministeriale. Però c'è da parte degli anziani questa richiesta di maggiore copertura. Certo, evidentemente col vaccino si sentono più protetti. Le chiedo il nuovo vaccino, quello nuova Vax, è già disponibile anche da noi, voi medici di base lo avete, potete farlo. E le chiedo anche se coloro che hanno fatto gli altri vaccini possono fare in un secondo momento anche questo, che sappiamo che ha un'azione completamente diversa. Sì, in effetti negli hub l'asile ha disponibilità di questi nuovi farmaci, di questo nuovo vaccino. Tutte le asile della Campania ce l'hanno perché in regione è arrivato. Però a noi medici di medicina generale non è stato dato, ma semplicemente perché non l'abbiamo richiesto. Se c'è necessità e se c'è richiesta, certamente io me lo procurerò e lo farò con... Per quanto riguarda se è possibile farlo con gli altri vaccini, io poi insomma dico che alla fine se un paziente è stato vaccinato con due dosi di mRNA e quel farmaco non ha dato nessun tipo di problema o pochi problemi, effetti collaterali, vale la pena rafforzare l'immunità con lo stesso farmaco. Noi pensiamo e speriamo di uscire da questa pandemia, purtroppo ci troviamo in un'altra emergenza, che è quella del terribile conflitto Russia-Ucraina, che inevitabilmente ha dei risvolti anche sanitari, perché sono tanti i profughi che stanno arrivando nella nostra regione, nella nostra città e la maggior parte di coloro che arrivano non sono nemmeno vaccinati e possono avere anche altre patologie. Come la sanità accoglie questi profughi? Per quanto riguarda le vie ufficiali, quindi attraverso il consolato o altre vie tracciabili e ufficiali, certamente le ASL sono organizzate per l'accoglienza e per la vaccinazione, quindi tampone, vaccino e stanno dando i codici STP, cioè i codici per stranieri temporaneamente presenti. Questo codice è in effetti la chiave di accesso al nostro sistema sanitario nazionale e regionale, per le cure successive, sia per gli adulti che per i bambini ovviamente. A questo punto noi come medicina generale, ma anche come pediatri di libera scelta, stiamo lavorando con la regione per capire come è possibile organizzare appunto le cure primarie di questi profughi, perché a parte il vaccino e il tampone, che sono gli altri vaccini che dovremmo fare, specialmente ai bambini, perché molti bambini che arrivano non hanno le coperture previste dal nostro piano nazionale vaccini, e quindi quei bambini devono essere assolutamente vaccinati. Ma a parte questo, poi questi profughi ovviamente dovranno essere curati, dovranno avere l'accesso al nostro sistema sanitario e quindi certamente alle cure primarie. Quindi noi ci stiamo organizzando con la regione per capire come la rete dei medici di medicina generale può accogliere e può curare questi pazienti. Abbiamo diverse proposte, credo in settimana prossima le sottoporremo all'attenzione della regione per capire come possiamo dare una mano e come possiamo attivarci per offrire le cure primarie ai profughi undaini. Dottoressa, prima di salutarci, ricordiamo veramente che Napoli ha un cuore grande, una gara di solidarietà per sostenere le popolazioni in fuga dalla guerra, anche il suo ambulatorio è diventato un centro, un minicentro di raccolta, veramente in maniera generosa dona anche chi non può. Assolutamente sì, addirittura alcune volte veramente commovente, perché io poi conoscendo le situazioni delle famiglie vedo che anche una piccola donazione viene da uno sforzo, viene da un sacrificio che loro fanno e questo veramente poi amplifica il valore della donazione. E quindi io non posso che dare una mano per favorire l'accessibilità a un grande gesto di generosità. Dottoressa, noi la salutiamo, le auguriamo buon lavoro, naturalmente torneremo a collegarci prossimamente. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Il ponte che c'è, ma non c'è, quello di San Giacomo dei Capri, progetti per riqualificarlo. Il ponte di San Giacomo dei Capri al Vomero è un pezzo del paesaggio incompiuto italiano da sistemare, un'infrastruttura mai completata, un luogo abbastanza nascosto e dal quale si accede attraverso un parco residenziale. Il progetto di recupero è stato presentato ieri mattina nella sede del Lance, a margine della presentazione di un concorso di idee che mette in palio 10.500 euro. Sarà possibile presentare i progetti fino al prossimo 3 maggio, a valutarli una giuria formata da docenti universitari, architetti e professionisti di fama internazionali. Le migliori proposte saranno esposte al PAN, il Palazzo delle Arti di Napoli, e saranno votate anche dai cittadini. A parlarci dell'iniziativa, la presidente del premio Green Care, Benedetta De Falco. Prevede un invito a progettisti, ingegneri, architetti, studio di progettazione per ripensare questa grande infrastruttura urbana abbandonata da circa 40 anni nel rione alto di Napoli. 140 metri lineari, 2.000 metri quadrati di suolo disponibile a pensare ad un giardino, ad un parco pubblico, così come chiedono i cittadini di questo quartiere. Un quartiere densamente popolato, costretto a cambiare quartiere per poter avere un'area verde fruibile. Quindi noi ci aspettiamo che per il 3 di maggio arrivino tanti progetti da poi mettere all'attenzione della nostra giuria, che è una giuria scientifica, una giuria tecnica. È un'infrastruttura che si deve sistemare e deve passare il messaggio che si può fare anche a Napoli. Quel viadotto fantasma può diventare una risorsa per l'intero quartiere del Vomero, ad affermarlo l'assessore all'urbanistica del Comune di Napoli, Laura Lieto. I fondi servono, ma prima servono i progetti. Nel senso che la ricerca dei fondi è sicuramente un'attività essenziale, ma è ancora più essenziale e viene ancora prima il progetto, le idee, la capacità di saper vedere una trasformazione, di costruire una visione. Angelo Lancellotti, presidente del Lance di Napoli, a margine della conferenza stampa di presentazione, ha sottolineato come il progetto apre nuovi scenari nell'ambito della rigenerazione urbana. Noi intendiamo promuovere un'architettura che sia costruire intorno alle persone. I progetti devono tenere conto delle persone e l'architettura deve essere un elemento identificativo della città. Per Grazia Torre, presidente di Napoli, creativa, occorre immaginare nuove opere per la città, spazi da vivere tutti insieme. Coinvolgendo i cittadini nel giudizio finale della scelta del progetto, cerchiamo proprio di dare voce a tutte le categorie che fanno parte della società. Aumentano le materie prime per i beni essenziali, se ne è discusso in Consiglio regionale, è una situazione insostenibile per i consumatori. Lo sciopero del pane è dietro l'angolo. I produttori campani lo hanno minacciato questa mattina a margine dell'incontro tra le associazioni di categoria e l'assessore all'agricoltura della regione campagna, Michele Caputo, organizzato per trovare una soluzione ai rincari di grano ed energia che hanno spinto molti commercianti a venderlo a più di 4 euro al chilo. Qualora non dovessero essere presi in tempi in breve le soluzioni contro gli aumenti che stanno costringendo tanti produttori a lavorare senza guadagno pur di non rischiare che il prodotto resti invenduto, a fine mese si fermeranno i forni. Tra le soluzioni richieste dai panificatori spiegano i presidenti di Unipan Confcommercio Domenico Filosa e dell'associazione panificatore di Napoli Giuseppe Pappacena che la campagna torni a produrre la materia prima e in attesa che la natura faccia il suo corso che la regione preveda agevolazioni fiscali e aiuti finanziari per sostenere le imprese del comparto. Ci sono terreni enormi che si può mettere in grado. Due, con l'assessore all'attività produttiva di fare degli incentivi ad aiutare le imprese della panificazione che stanno per chiudere sui costi che non riusciamo più a sopportare perché noi siamo piccole imprese. Noi già stiamo in mobilizzazione stiamo per preparare uno sciopero regionale quindi ci fermeremo. Diversi sono già dei panifici che hanno chiuso perché praticamente non è possibile si sta producendo e si sta vendendo ovviamente al di sotto dei costi di produzione ma già da tempo noi abbiamo fatto un po' di analisi sul territorio e diciamo che a settembre un chilo di pane costava al panificatore un euro e trenta circa ma costava quando veniva sfornato il pane dall'analisi dei vari costi quindi consideri settembre quanto costava la corrente la farina costava probabilmente un 50% in meno intorno ai 35 centesimi oggi 70% già dalla prossima annata dopo l'estate, ottobre, novembre si può già iniziare e noi stiamo pensando anche ad una rimodulazione delle misure anche di incentivazione perché qui da questo punto di vista aspettiamo anche cosa succede a livello europeo per la rimozione di alcuni vincoli di natura ambientale Siamo in collegamento con l'economista Gianni Lepre salve grazie per essere nuovamente collegato con noi ben trovato Salve a tutti grazie per l'invito Allora viviamo un momento assolutamente difficile chiediamo all'economista come è possibile insomma continuare su questa strada le imprese sono in sofferenza le famiglie sono in sofferenza i prezzi aumentano a dismisura e io credo e lei mi conferma se dico giusto anche in maniera ingiustificata aumentano questi prezzi nascondendosi dietro ad un'economia di guerra che al momento insomma non c'è Beh incominciamo col dire che in effetti i rincari sono sono partiti il giorno stesso in cui è partita la guerra che praticamente non è assolutamente veritiero non è possibile perché ovviamente tutti quanti compreso le grandi imprese di carburanti quindi praticamente tenevano delle scorte a terra credo non indifferenti per cui ovviamente c'è purtroppo dobbiamo dire tra virgolette anzi senza virgolette c'è che tutto questo ci marcia e si arricchisce quindi nel modo più assoluto però io oserei dire addirittura compreso lo Stato perché tra le altre cose se noi ne abbiamo parlato la volta scorsa abbiamo parlato soltanto dell'aumento delle utenze oggi ahimè dobbiamo parlare dell'aumento di un po' di tutto delle materie prime dei beni essenziali parliamo anche che devo dire del pane della pasta che è un alimento quotidiano per tutti quanti noi c'è un rincaro enorme lo Stato come detto anche lo Stato ci marcia perché naturalmente i rincari relativi a questi beni primari sono dovuti soprattutto al rincaro delle bollette e dei carburanti e dicevo lo Stato ci marcia perché praticamente ad ogni aumento ci sono quelle accise quell'iva che praticamente è eccessiva rispetto al costo della materia prima noi rammentiamo spesso che in effetti una bolletta che arriva o il carburante che andiamo a prendere alla pompa in effetti è caricato tre volte tanto rispetto al costo della materia prima quindi lo Stato necessariamente ma nell'interesse stesso dello Stato deve togliere accise e tasse ma proprio immediatamente non c'è proprio da discutere perché poi il tutto provocherà morire delle aziende quindi nuova disoccupazione e costi sociali enormi certo chiaramente c'è un fermo dei consumi quindi lo Stato non incassa nemmeno da come diceva lei dall'IVA tanto per fare un esempio ma da tante altre accise che ci sono sui prodotti e sui servizi ma anche dall'IVA in generale sui consumi perché si stanno fermando anche i consumi anche quelli dei beni come devo dire anche quelli dei beni voluttuari o non necessari tanto per intenderci perché poi tutto questo clima crea terrore e in effetti la gente tende a risparmiare e a non spendere secondo lei mi rispondo brevemente i 15-20 centesimi che probabilmente lo Stato toglierà sui carburanti abbassando un po' quelle che sono le accise serviranno realmente a far ripartire l'economia sono assolutamente insufficienti perché se noi ricordiamo e ognuno di noi naturalmente lo ricordo perché riguarda tutte le nostre tasche in effetti due mesi fa la benzina costava intorno all'euro e 60 adesso costa intorno all'euro e 30 quindi comunque continua a dire anche lo Stato ci marcia però contro i suoi interessi io ritengo certo la benzina è arrivata a 2,30 quindi chiaramente c'è un rincaro veramente assurdo e insostenibile è assolutamente insostenibile a questo punto però bisogna oltre a provvedere insomma regolare quelle che sono le accise e le tasse bisogna comunque intervenire con strumenti concreti per aiutare le famiglie e le imprese l'assegno unico ad esempio che è un intervento che il governo ha fatto a sossegno delle famiglie in qualche modo può aiutare concretamente le famiglie e quali famiglie saranno aiutate noi però allora l'assegno unico praticamente lo possono prendere tutte le famiglie che hanno dei figli quindi in questo caso parliamo anche dei lavoratori autonomi che prima non prendevano i cosiddetti assegni familiari noi ricordiamo che l'assegno unico sostituisce gli assegni familiari sostituisce alcuni bonus che in effetti andavano in detrazione per i figli a carico perché si avevano dei figli praticamente e quindi diciamo che non è vantaggiato è avvantaggiato soltanto chi effettivamente ha come devo dire un ISEE molto molto basso per cui prende 175 euro a figlio fino a 21 anni tra le altre cose e quindi in effetti quella fascia è avvantaggiata tra le altre cose dobbiamo poi dire quindi a seconda dell'ISEE va da 50 a 175 euro al mese per ogni figlio dobbiamo dire che parte da marzo per chi ha presentato la domanda per ottenere questo assegno unico entro il 28 febbraio chi fa la domanda da marzo ne avrà diritto l'avrà riceverà l'assegno unico per marzo ed aprile entro il 30 aprile comunque voglio precisare che c'è il termine per la presentazione della domanda fino al 30 giugno ricevendo tutti gli arretrati chi farà la domanda dal primo luglio non avrà diritto ad alcun arretrato e questo è importante le chiedo un'altra cosa fortunatamente diciamo dei provvedimenti sono stati presi per muovere un po' l'economia anche con tanti insomma adesso ritorna ad essere 2.000 euro sotto i 2.000 euro 1.999 euro invece che 1.000 euro come era previsto dal primo gennaio questo è sufficiente o lei ritiene che bisogna ancora di più alzare l'attetto dell'utilizzo del contante come avviene in altri paesi nel modo più assoluto bisogna alzarlo ancora di più io rammento che per esempio la Germania non c'è lì in Germania non c'è il limite del contante in Francia è a 10.000 in Svizzera a 90.000 e certamente hanno un'evasione fiscale di gran lunga inferiore alla nostra quindi non è detto che l'equazione con tanti evasione fiscale sia quella giusta cioè lo Stato praticamente come devo dire nella sua non capacità di perseguire diciamo l'evasione fiscale se la prende col contante che dal mio punto di vista danneggia soltanto l'economia per terminare le voglio dare due indicazioni di massima gli italiani quelli per bene hanno conservati nei materassi o sotto le mattonelle tanto per parlare all'antica in effetti 200 miliardi di euro sulle banche sono depositate fermi 1900 miliardi di euro di risparmio degli italiani quindi basterebbe fare un po' come devo dire di incentivare in qualche modo a muovere a tirare fuori i contanti dal materassi e lo si può fare attraverso soltanto un condono perché io ricordo tra le altre cose che in effetti appena qualcuno tira fuori del contante ha un accertamento fiscale che non finisce più ci stiamo molto come devo dire stiamo molto contando sul PNRR i contanti conservati dagli italiani sono superiori ai soldi che arriveranno dal PNRR e che dovranno essere restituiti allora noi la ringraziamo la salutiamo e gli auguriamo buon lavoro naturalmente torneremo a collegarci per capire insomma come andrà questa economia gravemente compromessa arrivederci grazie a voi a tutti torna EnergyMed con uno sguardo naturalmente alla crisi energetica fonti energetiche rinnovabili in alternativa a gas e carburanti la crisi ucraina ha reso quanto mai attuale il dibattito su come ottenere nel nostro paese energie alternative se ne discuterà sicuramente ad EnergyMed dal 24 al 26 marzo nel corso della tredicesima edizione del salone in programma alla mostra ad oltremare la presentazione presso la camera di commercio di Napoli alla presenza del presidente Ciro Fiola EnergyMed è una fiera importante per il nostro territorio come le altre fiere perché portano turisti portano economia però in questo anno ha un significato molto particolare ci fa riflettere sul nostro passato che abbiamo fatto sicuramente scelte sbagliate o addirittura non le abbiamo fatte e questo ci fa vivere di preoccupazione se si chiudono i rubinetti russi sul gas quindi questa lezione delle nostre colpe ci deve portare a riflettere sulle energie rinnovabili Un dialogo sulle nuove fonti di energia deve essere aperto e affrontato con serietà con regione comuni ed enti locali così il direttore di Anea Michele Macaluso gli enti locali e le istituzioni svolgono un ruolo fondamentale perché devono dare l'esempio e quindi in tutte quelle che sono le loro funzioni sugli edifici sulle flotte devono appunto introdurre sempre di più sistemi che siano efficienti dal punto di vista energetico che producono energia da fonti rinnovabili e noi al sud abbiamo giacimenti energetici del sole e del vento inesauribili che vengono sfruttati è ormai banale dire ma molto più in Germania che dalle nostre parti e quindi loro devono dare un esempio forte un segnale forte sia comune che regione saranno presenti a EnergyMed in una serie di interventi e speriamo che nei prossimi anni ci sia questo esempio e questo segnale anche da parte delle istituzioni il Napoli Basket presenta il nuovo coach la Gevi Napoli Basket ha un nuovo allenatore dopo l'esonero di Pino Sacripanti in seguito al K.O. con la Open Job Metis Varese il club presieduto da Federico Grassi ha presentato il nuovo coach Maurizio Buscaglia il 52enne Varese ritorna così in Serie A arrivando alla quarta panchina diversa nella massima serie italiana oltre a Brescia Buscaglia in Serie A ha allenato anche Reggio Emilia e Trento con l'Aquila un percorso ultradecennale in due diverse esperienze una delle quali consecutiva dal 2010 al 2019 in cui ha ottenuto svariate promozioni 5 partecipazioni ai play-off e due finali scudetto consecutive dal 2019 Buscaglia è anche il capo allenatore della nazionale olandese la conferenza stampa di presentazione ieri nella sala stampa del Pala Barbuto entrare in corsa è sempre ovviamente complicato questo è un momento molto delicato è una fase di campionato molto delicata mancano nove partite per cui quello che bisogna fare è lavorare quotidianamente al massimo delle nostre possibilità e cercare di vincere le partite per cui ragionando in questo senso vai avanti giorno per giorno pensi partita per partita e ti aspetti che la squadra come ha fatto in questi due allenamenti dia il massimo e più del massimo lo stanno facendo con ottimo spirito con ottima presenza mentale fisica tecnica sai sono pochi giorni quindi è importante agire sia sulla parte tecnica ma soprattutto su quella mentale in questo momento siccome ragioniamo giorno per giorno e partita per partita uno mette l'attenzione sulla palla a due è la prima difesa che deve fare poi sulla seconda poi sulla terza e poi va avanti così cercando sempre di essere come mentalità al possesso successivo questa città è meravigliosa è meravigliosa non è bella è meravigliosa sono abituato a dire quello che penso è ovvio sono appena arrivato può sembrare invece ti assicuro che è così è una città meravigliosa di gente di passione che io conosco come tipo di mentalità perché lo sono per cui mi aspetto quello è davvero tutto grazie per essere stati con noi un piacevole pomeriggio ci ritroviamo come di consueto nelle prossime edizioni di Televomero Notizie arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.